Ha fatto tappa anche a Cosenza a Mobilità e Innovazione 4.0, l'evento itinerante di Feder Motorizzazione. Un convegno su queste importanti tematiche, infatti, è stato organizzato in collaborazione con Confcommercio Cosenza, nel corso del quale è stato fatto il punto sullo stato di salute del comparto. Insieme al Presidente Nazionale di Feder Motorizzazione, Simon Paolo Buongiardino, sono state analizzate le diverse problematiche, ma anche le nuove opportunità che riguardano un settore che ha risentito la crisi, ma con numeri che ne testimoniano ancora l'importanza nel panorama economico nazionale e regionale. In Italia, in realtà, sono oltre 200.000 le imprese del comparto, dove può rappresentare fermotrizzazione, quindi concessionari d'auto, i veicoli leggeri, moto, l'assistenza, le officine, i veicoli pesanti, tutto il nostro comparto. Nella nostra regione sono 11.000, nella nostra provincia sono quasi 3.000. ma la cosa più importante è che sono 85 miliardi di euro in nostro comparto in Italia e nella nostra regione sono oltre 700 milioni e nella nostra provincia circa 300 milioni. Ecco, questi sono i numeri, questi sono i fatturati. Anche negli addetti, mediamente, gli addetti sono intorno a 29-30 per ogni azienda. Quindi sono dei numeri che noi vogliamo far valere anche con delle proposte di legge.